Fausto, da quanti anni è che siamo sposati? Io e te? Vado in cameriere. Guarda che c'è qualcosa che brucia, eh? Era Rosbiff era. Possibile che dopo tre anni di istituto alberghiero ancora non è in grado di cucinare un peso di carne? Che altro talento ho io, mamma? Yeah, I am, baby. C'è questo che vuole a Marco. Un uave. Quello è Marco. E cosa fa? E che fa uno in un film porno? Cosa fa? Va tutto bene, Lucia? Ah, benissimo. Nostro figlio ha il coso più grande che io abbia mai visto. Cosa è che ereditario, vero? E comunque non l'hai preso da me! Io ce l'ho normale! Vero, Lucia? Normale. Ma non è una parola grossa. Buongiorno, capo. Deve essere una replica del dottor House. Ciao. Ciao. Come la vedi sta Federica? Ma secondo te lo sa? Io devo stare calma. Dopo quello che hai fatto tu a casa mia? Ma vaffanculo! Ora mi cazzo, eh. Allora, cosa fai tu? Ma io cazzo, va io. Cosa fai tu? No, siamo quasi con suoceri. Diamoci del tuo falso. Molto bella questa casa, eh. Grazie. È una casa da cinema. Ma che fai questo? È il divano del porno. Sei tu che hai voluto fermarti a pranzo. Sembra che mi guarda. Che mi guardi, congiuntivo. E colloquiale. Signora vuole assaggiare del cacciaturino. No. Ma avere un pisello grosso non è un talento, Marco. E poi vorrei sapere, la gente e gli altri, che piacere ne ricavano. Marco, invece, ha preso dal padre o no? Secondo te perché sono sempre così allegra? Grazie. Grazie.